Fari, ma cosa ci facciamo di nuovo nella cameretta gigante, scusa? Perché oggi, mio caro Steph, siamo qui non per giocare a nascondino, ma per giocare a Fortnite Qui dentro? Sì Davvero? Sì È una figata Eh, lo so Dai, è giusto per cambiare, scusa, eh E beh, no, ci sta, ma abbiamo le ceste qui in giro, qua, nelle camerette, con le armi e le cose varie da prendere Ci dobbiamo sfidare uno contro uno Sì, è anche molto nascosto, Steph, quindi dovrei essere molto bravo a trovarle Ok, ok, io direi che sono pronta Allora, l'equipaggiamento ce l'ho, giusto, non ci buttiamo col deltaplano, che da qua sarebbe stato abbastanza problematico E direi che si può partire Allora, ci diamo almeno qualche minuto per prendere l'equipaggiamento, poi da lì in poi ci si può sparare Ok Ok, pronta? Allora, partiamo da qui, dal centro, vai Eh, tre, due, uno, via, ciao 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 Allora, vediamo, io devo capire anche in base al tipo di ceste che cosa c'è dentro Però direi che è andata bene, ho già trovato un fucile a pompa, quindi sono già più che felice Ferre, sei preoccupata del mio fucile a pompa? No, allora, ho trovato una ceste che, se non ricordo male, il suo colore contiene armi Ok Dentro una cazza, bellissima Cosa? Dentro una tazza Dentro una tazza? Sì, e qua, se non ricordo male, quella di iron dovrebbero essere munizioni, vero? Allora, vediamo, anche io sto trovando, sì, allora, qua trovato munizioni dello scar Uh, io munizioni del fucile a pompa Perfetto, quindi raga, le ceste queste qua hanno munizioni, queste in iron Poi, la ceste in copper, quella lì che era tipo marroncina, chiaramente alle armi E quindi qua troviamo un'altra arma, speriamo che sia qualcosa di bello Io voglio venire già a ucciderti Un altro fucile a pompa? Arrivo, Steph Ferre, lasciami in pace Arrivo, Steph Ferre, non puoi Perché? Perché armai? L'M16 Ho detto, un po' di tempo per lutare, che è sta roba? Smettila Quanto sono smirate, queste armi Ah, sei tu che fai schifo Cioè, davvero? Guarda senza mirare Eh, perché non spara? Non spara dove c'è il mirino, Steph? Che è sta diavoleria? Non lo so, Ferre Cavoli, tu hai così almeno paura di spararmi per un altro po' Allora, sì che faccio Vado a cercarmi un fucile a pompa, Steph, addio Beh, io ne ho due, cara Quindi è meglio farmi arrabbiare Comunque, una bella novità, Steph Ok Io non so un attimino se ti sei guardato in giro Però puoi salire in qualsiasi punto della casa Ho messo scale ovunque Ok Quindi puoi andare in alto Puoi andare dove ti pare Ho appena trovato due pezzi di armatura Oh, bello Oh, yeah Perfetto, anche qualche benda Quindi adesso sono un bel po' più protetto rispetto a prima E ho pure un po' di cure Gold Desert Eagle Bah Bah Secondo me non me ne faccio nulla, raga Però dai, utilizziamola Però è l'arma che ho più a distanza Dato che ho solo fucile a pompa Uh, ottimo Allora, quelle dorate cosa avevano? Eh, quelle dorate Adesso non ricordo male L'armatura Ok Finito, sono full armatura Perfetto Ma che schifo Perfetto Guardate Sei un po' pessima Adesso prendo molto danno Praticamente l'armatura è al posto dello shield, raga In questo modo compensiamo L'unica cosa è che per rompersi ci mette un po' di più rispetto a uno shield Ma dai Dai, ci sta Ci sta abbastanza anche secondo me Allora, ho trovato un M16 Con la differenza che io ho nove caricatori delle M16 Wow Ti consiglio di stare parecchio attenta Ma perché sono messa così male, accidenti? Eh, mi sa che fai un po' schifo Eh, abbastanza Allora, vediamo Uh, questa è bella Che stai facendo, Steph? Cerco di imparare a sparare con le M16 In modo tale che quando poi sparo qualcosa l'azzecco Ok Allora, io inizio ad andare verso l'alto perché voglio un cechino E di sicuro le chest con il cechino sono in alto Io però ho trovato anche uno scar Ok Lo scar è un po' più forte delle M16 Quindi Not good Not good Qua c'è qualcosa, sì Ok Allora, qua cosa c'è? Munizioni del cechino Munizioni, non me ne faccio quasi nulla Vabbè, dai, prendiamole Mi servirebbero le munizioni del cechino Perché so già che quando trovo il cechino ce ne sono poche Ed è importante come arma Fede, ma c'è anche qualche altra arma rara? Eh, sì Che cosa? RPG Eh? RPG Davvero Ma fai esplodere tutto Ma Quella è la cosa bella, Steph No, non è bella No, certo che è bella No, non è bella Uh, la chest Gialla, 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 gialla Quindi vuol dire che mi trovo almeno qualche pezzo di arma Ma adesso, ma dai, ma andiamo già a quattro ore o due ore Questa qua è felice Eh, sì Che schifo che fai a lutare Tu fai schifo Vabbè che Voglio ucciderti e tu non hai accettato la mia uccisione, quindi Beh, per me possiamo partire da adesso, cara Vuoi sparare? No Sicura? Sì Non sto ricaricando No, neanch'io Non mi sto nascondendo, Steph, tranquillo Eh, nasconditi, nasconditi Poco cambia Questa mappa è che è piena di nascondini Quello è vero Allora, mi sposto un attimo in queste robe Che al momento non mi servono Allora, dimmi col... No, eh, vabbè Dai, ci servono lo stesso, dai Ok Ci servono lo stesso Quindi abbiamo ta, ta, ta Ma dai, ho ritrovato la stessa armatura Ta, ta, ta Eh, può capitare La prendo pur di non darla a Steph Beh, ma tanto io ce l'ho già Sshh Gli affari Eh, io Sshh Ok, voglio andare qui sopra Allora In che zona ci spostiamo, raga? In che zona ci spostiamo? Qua credo ci sia altra armatura che non avevo preso Ma tanto non ci serve nulla Quindi manco perdo tempo ad aprire Ok, un altro sparo Qui dietro non c'è nulla Io vorrei trovare sto RPG Così faccio pump Steph, dove sei? Maledetto Maledetto Cioè, come sono morta? Col miglior cechino del gioco È facile Allora, se non cambiamo le armi, Steph Io davvero Io davvero spacco il gioco Cioè, cosa vuol dire? Fanno schifo a mirare Sono brutte E mi hai rotto le scatole Ok? Te lo devo dire in altri modi? Allora, vai Mi hai rotto le scatole È già partito il secondo round Quindi penso a sparare Allora Comunque il cechino è fortissimo Non può fare one shot in quel modo Direi Dove sei? Maledetto Non ti interessa Però ho appena visto qualcosa di molto importante Ma cos'è quella? Non c'è niente marazzo Vedi? Cioè, fa tutto schifo in sto gioco Ma cos'era? Una desertigola? Uno scar Uno scar Sì Quel rumore Esatto Ma non ha senso Esatto Ma dai Sembrava Ti giuro, penso Se stessi sparando con la desert Te lo giuro, eh Ero sicurissimo Ho detto Ma perché mi spara con la desert? Algo promuto per non sprecare tutto il caricatore Ma è davvero penosa sta roba Basta Vabbè Io vado qui sopra Voglio un cecchino anch'io Basta Ho capito che l'arma ha più forte il cecchino Quindi vado a cercarmelo Anche se non so dove l'hai preso tu Quindi magari sto controllando tu i posti Perché non si può sparare così? Allora, vado nell'armadio L'armadio secondo me non l'hai controllato E penso che ci sia qualche cesta Basta Non puntare l'armadio Perché ti vedo dove sto andando, ok? Perché poi mi si blocca costantemente il gioco? Non ne ho idea Cioè, scatti? Sì Non lo so Ha tantissimo Io pensavo di aver visto una cesta di diamante Sopra la scrivania Ma non la vedo Forse ho visto male E dall'alto mi era sembrata di averla vista Ma non c'è Allora, lì c'è una di munizioni Le ho prese ed era un colpi di RPG Quindi si trova Ah, eccola dove era Dimmi che è l'RPG Cicchino Peccato Adesso trovo il cecchino Facciamo la sfida dei cecchini, Steph Va bene Ok Va bene Perché mi sono arrabbiata Allora Io non so dove è nascosto l'RPG Uffa Dove sono? Voglio un RPG Qua dentro c'è qualcosa Forse ho capito Forse ho capito No, non c'è nulla Ok Perry, dove sei? Non ti interessa Hai già Fammi capire se hai già intanto a cacciare Non ho ancora trovato il cecchino Ok 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 Però ho già appena trovato una scessa di diamante Eccolo qua Trovato? Lo sapevo che nei punti alti si può trovare Punti alti? Ma dov'è? Ricarico Non è normale che non la vedo se in un punto alto Ah, di sicuro sto già a cecchino Perché ho capito E ricarico pure Vedetta Come fai a sparare con sto schifo, Steph? Lo sai che sono il mastro cecchino Ma ti sto prendendo? No È difficile, ora mi hai preso Mi avevi preso la prima volta e adesso Però se non fai headshot non è one shot Aia Ok Ebbè è difficilissimo sparare Però ti ho detto sarebbe stata Una gara tra cecchini, Steph Ma non ho neanche mirato Non ho neanche mirato Ma ti ho preso? Sì, adesso Ah, che cavolo Sai cosa ci siamo dimenticati? Cosa? Di togliere la regen Hai notato? Ah, sì, boh Ma non mi ricordavo come si fa Avevamo le bende Eh vabbè Eh vabbè, dai Tanto come hai visto si uccide, Steph Se pigli bene uccidi Beh, soprattutto perché ti ho preso col fucile a pompa Non è un problema, secondo me Dove sei finita? Non mi vede? Sì che ti Ma perché non muore? Che noiosa sta sfida, Steph Me ne scendo Ok Quanti fucile a pompa hai? Uno Uno? Volevo fare la sfida fucile a pompa Però ho tanti proiettili Ne ho trovati tanti Ok E io ho il double pump, ho capito? Ah Oh cavolo, sono rimasta a mezzo cuore Sono appena caduta dalla maglia Ah sì? Aspetta Armatura E dai Trovo sempre la solita roba La lascio qua Che noia Non ho ancora trovato la chest E i gambali Io mi nascondo Dov'è Steph? Non lo so Tu dove sei? Che cosa? Porca miseria Nooo Ma che cavolo Prima o poi Sai che faccio? Ah ah Volevo cercare l'RPG Intanto non lo trovi Sì Smettila Smettila Steph Ma ti ho preso almeno una volta? No Cioè fa davvero schifo le M16 Ecco No Però voglio sapere dove sei Allora non ti interessa Sarà nascosto Steph Quindi dovrei andare in giro nei punti tipo più bui probabilmente Che ne so Più bui E beh sei nascosto quindi nei punti scuri Ma nei punti scuri c'è anche Steph Che ti punta Double pump Ferre non usare più le M16 No non usare mai più un'arma in sto gioco Perché davvero Il pump e il cechino E ma aiutiamo Guarda Guarda lo scar Non mi hai preso Cioè non riesci a tenerlo fermo Guarda E io vedo allo spread dei colpi Non è possibile Vediamo questo Sembra Counter strike Sembra counter strike Perché tipo C'è lo spread Altissimo E devi compensare di brutto Mi lasci in pace Mentre parlo No Sto ricaricando Steph Lo sento cara L'hai finita Mi spara alle spalle come gli infatti Perché non muori? Eh perché Non muore L'armatura è forte Completa Non muore Per quello non mi hai mai killato Ferre Altrimenti non sai quante volte ero morto Capisci Quando io ti killavo col cechino E tu non mi killavi Perché io avevo l'armor Ok Completta Mentre tu non ce l'hai Perché sei sfigata Cavolo qua Pensavo ci fosse l'RPG Cosa è successo? Ho trovato una cesta Nascosta sotto il divano E quindi? Scusa Mi è partito un colpo Non volevo Ma hai trovato ciò che penso? No No? No non l'ho trovata Ah ok Allora sono tranquilla Ok Tranquilla Meno male Dove sei Steph? Non lo so Nascondendo Basta Basta Mi ha fatto arrabbiare Dove sei? Ma Ma fa schifo Steph Davvero? Cioè ha rotto quattro blocchetti Di lana Meglio Almeno Si ho visto l'ave rotto Cioè Vabbè Grazie Mi ha carezzato Ok Ok Ma questo è il massimo danno Degli RPG? No con l'armatura Con l'armatura Sei invincibile Steph Perché non dovremmo avere L'entere gen Per quello ti dicevo Che era Un problema Sì ma muoio solo io Perché non ho l'armatura Sì perché poi non è l'elmetto Ho finito così Si è resa Sì non gioco più Ho trovato l'RPG Fa schifo lo stesso Poi c'erano solo tipo due colpi Quindi c'è Vabbè Poverina Vabbè qua sotto Compareranno altri video Fateci sapere Non muore mai Non muore mai Fateci sapere Se vi piacciono Questo giorno di location Per fare le sfide È stato parecchio divertente Per Steph Per fare no Ovviamente Iscriviti al canale Cliccate la campanellina Se avete ancora fatto E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao